Allora scusatemi se oggi non sono riuscito a portare il video degli sconti e soldi doppi settimanali nel solito format ovvero in cui vado a vedere in gioco tutte le cose di questa settimana di eventi ma in seguito a problemi vari eccetera oggi vi registrerò il video in questo diverso format è una cosa provvisoria solamente per questa settimana ma spero che comunque vi piaccia allora è una settimana veramente molto particolare così come il format di questo video è molto particolare anche la settimana lo è, non oserei dire che ci sono chissà che modi per fare soldi, chissà che sconti ma c'è qualche piccola cosa che è interessante allora iniziando dal veicolo del podio come potete vedere è la IC Classic quindi nessun veicolo super sportivo, nessun veicolo super lusso abbiamo invece la macchinina di Mr. Bean, la mini di Mr. Bean che a me personalmente non piace molto perché la trovo abbastanza inguidabile un po' obsoleta forse come estetica, comunque a chi piace ok è sul podio avete 7 giorni di tempo per vincerla e quindi niente, benvenga a chi piace, a chi non piace come a me amen, se la vince è comunque un veicolo in più che non torna mai male invece parlando degli sconti andiamo subito a vederli perché alcune cose sono appunto interessanti come ho detto altre un po' meno la Progen PR4, la Progen PR4 ha un 30% di sconto questa settimana come vedete costa 2.460.000 dollari è un'auto bella esteticamente, è sicuramente un'auto molto bella, molto particolare aggiunta a inizio anno con l'aggiornamento, con il mini aggiornamento delle gare per ruote scoperte secondo me può essere un buon acquisto per chi ha però un bel po' di soldi perché comunque 2.4.000 sono sicuramente non due spiccioli e non si fanno così in fretta quindi se avete tanti soldi e volevate un'auto da Formula 1, un'auto comunque molto veloce molto prestante, molto bella esteticamente, questo è un acquisto che fa per voi se no in qualsiasi altro caso evitatela la Neo invece, la Vister Neo ha il 40% di sconto questo è un acquisto che vi consiglio invece un po' di più perché per 1.125.000 dollari vi portate a casa una sportiva attenzione non una super una sportiva con un design da super e con delle prestazioni tutto sommato abbastanza buone e molte personalizzazioni molte personalizzazioni è un'automobile particolare esteticamente, a me piace molto potrei anche farci un pensierino quindi se volete appunto un'automobile sportiva dalle buone prestazioni da un'estetica molto molto bella questo è un acquisto da fare non direi lo stesso invece per la Declasse, scusate Mamba che ha il 40% di sconto, costa poco meno di 600.000 dollari ma secondo me, non lo so, a me personalmente questo genere di auto non piace molto se vi piace prendetela assolutamente, ha un prezzo comunque abbastanza relativamente basso ci sta comunque, è uno sconto ok, uno sconto buono, il 40% appunto se vi piacciono questi automobili un po' mascoli, un po' particolari questo qua penso che sono dei migliori acquisti perché ha un prezzo comunque anche di base sotto il milione quindi ci può stare però non prendetela se invece non vi serve un'automobile del genere è un'automobile semplicemente da collezione ma se invece cercate un'automobile più funzionale questa non fa per voi passando a Warstock abbiamo uno sconto in particolare molto interessante ovvero quello del 40% sulla Deluxo la Deluxo adesso costa 2.130.000 dollari ed è secondo me un acquisto da fare questa settimana se avete anche qua un po' di soldi da parte volete un'automobile molto utile magari non l'avete vinta quando era sul podio qualche settimana fa è il momento giusto per acquistarla assolutamente uno sconto del genere, non so quando tornerà approfittate di questo 40% di sconto perché secondo me questo è il migliore no, non so se è il migliore o comunque fra uno dei migliori acquisti di questa settimana allora ovviamente non parlo del Brickade non so parlare il Brickade non è assolutamente uno dei migliori acquisti di questa settimana anzi evitatelo assolutamente 777.000 dollari secondo me non vanno spesi in un veicolo del genere piuttosto appunto spendeteli per la mamba che è comunque l'automobile più prestante più personalizzabile questo qua non lo trovo in acquisto utile a meno che non lo vogliate usare per divertirvi o per fare missioni passando invece su Souders San Andreas abbiamo lo sconto del 50% su tutti i modelli della Issy quindi parliamo della Issy Sport che vedete qua della Issy Classic e della Issy Normale il modello che potete trovare anche in strada partendo dalla Issy Sport costa 448.000 dollari secondo me può essere un buon acquisto per chi vuole una sportiva un po' particolare perché questa alla fin fine è semplicemente un'auto molto particolare carina comunque abbastanza buona per le gare anche se non ha prestazioni fantasmagoriche comunque se volete un'automobile personalizzabile molto originale dal punto di vista estetico questo qua è un acquisto che potreste fare questa settimana che anzi potrei anche valutare oltre alla Neo non so devo vedere bene che cosa potrei acquistare questa settimana comunque questo potrebbe aggiungersi alla lista dei veicoli che potrei acquistare invece qua come vedete abbiamo la Issy Normale la Issy Classic scusate non vi ho portato l'immagine ma comunque costa 180.000 dollari mi sembra con il prezzo base vi direi di provare al massimo a vincerla con la ruota sicuramente non vale la pena di acquistarla così come anche per la Issy Normale comunque costa 9.000 dollari con lo sconto del 50% ne costerebbe 18.000 ma chi va a comprare una Issy chi va a comprare una Issy normale nel 2020 su GTA Online quando la potete trovare anche su strada fra l'altro quindi se vi interessa al massimo se voi siete delle persone particolari vi interessa questo veicolo trovatevelo su strada portatelo allo Santos Custom metteteci assicurazione segnalatore e avete finito lì non dovete spendere 9.000 dollari per un veicolo che potete appunto trovare dalla strada che non ha niente di speciale e per concludere la carrellata di sconti abbiamo il 40% di sconto sulla Truffade Nero o Truffade Nero come la volete chiamare io la chiamo Nero perché mi piace di più costerebbe 1.440.000 costa invece 864.000 e secondo me questo qua è un acquisto veramente 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 molto buono questa settimana perché la settimana scorsa avevamo la Trax ma secondo me la Nero è ancora meglio perché ha un'estetica che a parere mio è comunque molto molto bella ispirata alla Bugatti Chiron quindi potete ben pensare a che veicoli ci stiamo ispirando appunto ha delle prestazioni buone è forse anche più agile secondo me della Chiron ed è quindi della scusate della Trax ed è quindi un acquisto che vi consiglio caldamente questa settimana se volete una super personalizzabile potete modificarla anche nella versione custom e comunque molto bella anche di base per quanto riguarda soldi doppi e tripli abbiamo soldi doppi su tutta le missioni omicidio sono divertenti potete farle con gli amici potete farle da soli magari con gente random si possono fare da 2 a 4 giocatori e ce ne sono tipo 6 saranno più o meno non me lo ricordo comunque me lo scrivete qua sotto al massimo se voi lo ricordate io non ne ho idea assolutamente sono divertenti sono abbastanza facili e pagheranno abbastanza bene comunque mi sembra che senza soldi doppi possano pagare tipo 15.000 dollari quindi con i soldi doppi potete immaginare pagheranno più o meno 30.000 dollari ovviamente varia a seconda della difficoltà soldi trippili invece sulle gare per la ISSI le gare di serie di sfide sfrenate per intenderci con la ISSI che possono essere divertenti ma sicuramente non sono il metodo migliore per fare soldi questa settimana perché questa settimana abbiamo un'altra cosa molto interessante per fare i soldi se la settimana scorsa non siete riusciti a riscuotere il milione per gli incarichi giornalieri magari per problemi appunto non avete potuto giocare a GTA non avete potuto che so accedere in determinati giorni quindi non siete riusciti a farvi 10 incarichi il milione per gli incarichi giornalieri è ancora valido quindi magari la settimana scorsa avete fatti 5 non siete riusciti a finirevi tutti entro la settimana scorsa ne fate altri 5 questa settimana e otterrete tranquillamente il vostro milione vi ricordo che in più potete fare anche un ulteriore milione facendo gli incarichi sul vostro secondo personaggio perché per ogni personaggio ci sono incarichi diversi ma condividono lo stesso conto in banca quindi farete praticamente 2 milioni veramente molto easy ma questo è quanto per questo video mi raccomando scrivetevi qua sotto secondo voi che cosa senza acquistare cosa ne pensate di questa settimana molto molto strana e niente lasciate un bel like al video iscrivetevi al canale attivate la campanellina e noi ci rivediamo alla prossima ciao ciao ciao